Siamo all'Osteria del Porco, a differenza degli altri locali, il locale è ancora chiuso. Come mai? Allora, noi saremo in condizione forse di aprire alla fine della settimana entrante o appena possibile, perché la quantità di scartoffie varie che ci hanno chieste è talmente enorme che naturalmente per evitare di trovarsi in difficoltà uno vuole prima mettersi in condizioni di non essere... come dire, cioè vorremmo stare a posto, perché chiunque venga a controllarci deve avere tutte le carte che desidera. In più, bisognerebbe dire che fondamentalmente noi siamo firmi da ottobre 2019. Abbiamo perso Pasqua, abbiamo perso il 25 aprile, abbiamo perso il primo maggio, il 2 giugno è andato. Forse ci rimarranno 50-60 giorni durante l'estate per lavorare. Come arriverremo al 2021, ad aprile, visto che i costi sono rimasti praticamente identici e gli incassi sono praticamente pari a zero? È una domanda che forse si dovrebbero porre i nostri amministratori. E io poi vorrei spingere assolutamente perché se esiste una regione a statuto speciale come la Valle d'Aosta non vedo perché non si possa fare per le isole minori. Noi siamo 35 isole, Ischia, Capri, Procida, Marettimo, Favignana, Panarea, Stromboli, chi più ne ha più ne metta. Noi non possiamo essere tassati come Milano. Su queste isole, per esempio, i fitti dovrebbero essere pagati solamente per sei mesi. La tassazione dovrebbe essere assolutamente dimezzata. Altrimenti dove arriviamo? A meno che non vogliano vederci morti dal punto di vista imprenditoriale, io penso che sia arrivato il momento in cui qualcuno di loro pigliasse le proprie responsabilità. Diciamo che qualche settimana fa c'è stata anche una lieve protesta lasciando le chiavi al Comune. Una protesta che però non ha portato a nulla. No, assolutamente. È stata una cerimonia, una fandonia, chiamiamola così. Perché due giorni dopo che abbiamo portato le chiavi al Comune, alcuni dei miei colleghi hanno aperto le porte e io segnalai che se avessero adottato questa politica avrebbero assolutamente indebolito la posizione di noi tutti. Se fossimo rimasti coesi, probabilmente oggi potremmo avere una forza per chiedere, per avere un aiuto, per avere una mano. Io parlo con colleghi miei a Monaco di Baviera che hanno sovvenzioni tantacroeliche, chi ha avuto 16.000, chi ha avuto 17.000 a fondo perduto. Ho parlato con un mio amico fraterno di Miami che ha avuto 160.000 dollari a fondo perduto. A me hanno dato una volta 600 euro solo che nell'arco dello stesso mese io ne ho spesi 8.000 quindi ho un saldo in negativo, non indifferente. E insomma, 55 miliardi l'Italia, 880 miliardi la Germania, 3.300 miliardi di dollari gli Stati Uniti, e quindi una differenza ci sarà. Questa è la verità. Allora, almeno, se voi ci chiedete di chiudere, anzi ci ordinate di chiudere, contestualmente avreste dovuto dire il fitto non si paga, il suolo pubblico non si paga, non si paga la Tari, però contestualmente avreste dovuto dire ai proprietari degli immobili per quattro anni non pagherai l'Imu allora sarebbe stata una cosa equa visto che soldi non ne abbiamo perché l'Italia soldi non ne ha perlomeno, a meno che non ci vogliono vedere proprio sgozzati salvare un po' capra e cavoli come abitualmente si dice. L'unica speranza potrebbe essere questo turismo, la stagione potrebbe in qualche modo salvarsi? Allora, io ho sentito un sondaggio, ho letto un sondaggio dell'ANSA che non è proprio l'ultima delle agenzie di stampa che dice che probabilmente solo il 50% degli italiani riusciranno ad andare in vacanza e di questo 50% probabilmente il 60% nei ristoranti non ci andrà perché c'ha paura e non mi sento nemmeno da ristoratore di dargli torto perché lei si immagini come si può fare a venire con i guanti gli igienizzanti, il termometro cioè noi non stiamo facendo più il nostro lavoro. Noi siamo diventati un presidio ospedaliero e lei mi ha domandato all'inizio dell'intervista perché non ha ancora aperto ma con quale spirito? Che apro? Per chi? Questa è la verità. Allora noi forse avremmo bisogno realmente di un aiuto di qualcuno che avesse come tecnicamente si dice e fermiamoci qui che forse è molto più elegante. Grazie. 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 Grazie.